Ok, mentre c'è snack che giocherella, a random, io cerco di capire come... ah ok, come si riequipaggiano gli oggetti. Ok. A proposito, com'è che si apre l'inventario? I. I di Imula. Ecco. Oh, I di Idiota. I di Luke. Stessa cosa, Idiota, Luke, va a capire. Ok, seconda missione. Dai, studiamo la casa, anche se non si può. Muori. Ma che non si rompe? Non sfondare la casa. Bibbita. Una bibbita. Quella che con lui secondo me è vivo. Beh, cosa troppo fa pensare che è seduto e che sta passando a respirare. No? C'è amico, calciovolante. File. File, l'ho detto. Vabbè, che ti ho capito. Allora, scommetti che, guarda, dietro questo qua ce n'è uno. E beh. Piedi del... piedi del porco. Niente. Non dovrebbero assercene altro. Non dovrebbero. Non dovrebbero, però non è detto. Soldi. Soldi. Aspetta, ecco, vedo una palla attraverso il muro. Io vedo gli oggetti attraverso il muro, ti giuro. Vabbè, meglio di niente. Lui va a pugni. Sono un citar. Vabbè. Lo sapevamo già. Sempre calciare banana. Eh, come se non lo sapevamo già, eh. Ma alla fine questo gioco è simile a Borderlands. Sì. È solo che è più sopravvi... Cioè, nel senso lo stir è quello, però... Aia. Però non so. È più... Appunto una, la grafica non è cartonata ma è realistica. Insomma, è realistica. Sì. Nel senso videogioco. Videogiocamente realistica. Sì, vabbè, hai capito. Non fare il pignolo. No, eh, voglio salvare sto progetto. Ma ti faccio tanto prendere a pugni la gente? Sì. Almeno non spreco di armi. Tanto per quello che ci so. Ci abbiamo. Beh, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck me. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental case. Maybe I'll find something that'll come in handy. Io lo anticipo. 5 si è. Un'acqua. Ah, ricordati, andrò sempre di prenderle l'acqua. Lo so, lo so. C'è proprio tutto quello che vedo. Un sacco di soli. Qua c'è qualcosa da andare da prendere. La stresolante. La stresolante. La stresolante. Capo. Vuoto. Ah, già fatto. Se posso dare lì sei una merda. Sul balcone c'è qualcosa. Sì, però ritaglio due. Un cavo. Vediamo mazzachedata. Atti tu. Modifica. Mazzachedata. Non c'ho un cazzo. Modifica. Mazzachedata. Non posso. Io ti vedo che tu c'hai anche il reaper. Il reaper? No, non ce l'hai. Andrò. Non avevi progettato anche tu del reaper. No. Ah, non era reaper. Eh, era sì. Infatti. Ma dovevo avercela anch'io, entri. Ma che è stronzo. Questo è vivo. No. Oh my god. Perché tu hai picchiato quello e hai urlato un altro? Solo che vedo che qui dentro ce n'è uno. Uno si sente, due si vede l'ombra sotto. No, se mi spieghi perché l'hai chiusa la porta. Tanto per. Mi ricordo che i soldi si dividono. Mmh. Ciccione di merda. Ma ho dei picchiare ogni singola persona che vedi lungo la strada. Vabbè. Contagiata di merda. Eh, non so, io sento continuamente bestemmiarmi addosso. Ma vaffanmi. Dove fai Chuck Norris? Whatta! Non c'è un po' dare le armi che ho perché sono qui. Il personaggio è il figlio, è la figlia di Chuck Norris. Oh, guarda qui che c'ha. Che c'ha? Qua c'è una bibita per terra. Tu c'hai un tubo in mano. Esattamente non hai una sega in mano, altrimenti avrò fatto un po' più senso. Poi dovrò scaricarmi una mod. Tu già level appia, no? Ti odio. Perché c'è una mod che cambia i zombie di Dead Island con quelli di Left 4 Dead? Non ci facciamo stare. Eh sì. Eh sì. Vabbè, il boomer è... Eh, che si capisce già chi è. Sì. Ok. Tu si è morto? Tu si è morto? Sì. Oh. Aia! Oh merda! Non mi ricordo il posto per evitare, da preso. Tutto con una bevanda, mi dice fello. Sì. Oh, di bastone. Ma fermo un attimo, com'è che si faccia? Ok, qua. Uh. Uh, alla furia adesso io. Sei incazzato? Eh beh, non è la furia del cazzo la mia. Ok. Mi ricordo quando è che si poteva usare, però. Quando... buh. Oh no, qua c'era già quello strontolo. Usa il coltello qua, Andra. No, ma dai. Ah che c'era. Ah, ecco il caricatore. Il caricatore. Il caricatore. Il piede ti porto. Torno dietro. Che palle sti troie zombie. Mi ha tratto una gamba. Stanno sul cazzo le troie zombie. Pronto Andra. Aspetta, stanno andando equipaggiandomi i coltellini. Però non decido io quando arriverà, eh. Sì. Quando ti avvicini al coso. Pronto? Mh mh. Spadina. Ed ecco Snake quando si incazza. No, tu sei questo qua, sei tu quando ti incazzi. Adesso... Però non ho una faccia da culo. Adesso si vedrà che ci corre addosso. No? Per ora si vede che si corre addosso. Ok. Notare che adesso sembra tutto tranne che è pericoloso. Ok, forse è un po' pericoloso. Ma che cosa te lo fa pensare? Che ho un zombie gigante. Aia. No, beh. Sto senza stamina. Sì, ma che palle! Il mio vicino mi ha schiantato dalla tappa della mappa. Io mi è stato un... Un bravo. Mh. Mh. Ma vaffanculo. L'ho ucciso io. Non è vero io. Io alla fine gli ho dato una... Una porcata in faccia. E' pieno di zombie qua, guardami ma... Ma no, ma dai. Ah, posso salire di livello. Imperiamo la furia. Ma che stronzo. Imperiamo la furia. Ma un pochino di più. Ok. Premizzate per tirare la furia. C'è amico. Muori. Muori. Ok. Si, ma un po' di luce no. No. E' un po' complicato. Appunto. Oh, ho dato una prova. Parando. E beh. E' quando? Si. Ma vaffanculo a voi. E' intanto dato sopra. Ok. Prova. Lo ritaglio. Ma che bisognava rispondere. Dove cazzo è la prova? Ehm... Beh, era lì sul tavolino. Davanti... Tipo dal checkpoint. No, io cazzo lo fai. Ma qua sopra bisogna andare, cara. Boo. Oh. Ah, te ne ho provato. Carne. Lama. Cazzo è sto casino. Non l'aereo. Vabbè. Che no, eh. Il mio personaggio è già stanco dopo due secondi, cazzo. Non l'aereo ci accorre un bel po'. Non l'aereo. Oh mio dio, dove è apparto sto zombie? Mi è stuprato. Che bello. Ok, facciamo fare a Snake la vostra. Ma cazzo, ma io sono appena salito! A livello 1. Al 2, vuoi dire? Si, insomma, capito. Sfida completata cadavere ambulante. Ebbè. Ok. Orca pustana! Non te lo ricordavi. Non lo aspettavo. No, non me lo tiravo proprio. Ah, hai diceva che non faceva il po' brutto gioco. Ogni tanto ho detto che faceva cagavere. Ti faceva un po' di paura. Sono qui, eh. Non so che sei qui. Usare quella fotuta radio. No, non lo uso io. Tandeni in atto. We're on our way. Ok, un inutile video. Ma potremmo anche saltarlo. Ma vabbiamo così, ti guardiamo. E si rompe la macchina se non mi ricordo male. E noi dobbiamo entrare per ripararla. Ebbè. Si, hai una faccia da culo. Lo so che hai preoccupato. E poi, magicamente, arrivo qua. Da una mannaia. Fatta un cazzo. Da culo. Me la buttarla per terra. Grazie, è molto gentile. Te l'ha fatto? No, è fermo. Devo buttarmi via un oggetto. Allora, vediamo. Floriera a calciare. Lo so, io ho premuto. Porca p... Alleluia. Ma mentre Snake fa i cazzi suoi... Io vado a prendere le varie quest. Perfetto. Ci sono. Tu sei uno di questi. Allora, attiviamo il viaggio veloce. Definitivamente. Ok. Oh, che pare, un altro coltello. Grazie. Ma è una merda. Fanculo. Beh, sentimi, devo andare a liberare l'ambientale. Non c'è tutta la parte della mappa. Il coltello. Oh, manico scopo. Potrei darla a me, però. Era rotto. Ok, accettiamo le fottutissime quest che ci danno. Perfetto. I'm ready. I'm ready to f***. Ah, ora posso tenere molti pezzè. Ah, ora posso tenere molti pezzè. Questo. Allora. 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 Questo. Qua. Mentre tu fai i cazzi tuoi, io continuo ad accettare questo. Tu borroginito qua. E altro tu borroginito qua. Ma poca. Ok. Ok. Troppe cose sulla minimappa. Ho suonato il primo colpo. Ho ottenuto l'obiettivo toc toc toc. Ma dai. Ce l'ho fatta per la prima volta. No, l'ho già fatta. No, l'ho già fatta. Io no, non l'ho mai fatta toc toc toc. Ah, perché sei andato con un colpo. Esatto. Non ce l'ho mai fatta. Mi sento realizzato. Bene. Buon appetito. No, non ce l'ho mai fatta. Ecco, mi sento. Mi sento. Buon appetito! Quante fottute queste abbiamo ancora da accettare? Snake? Snake? Non risponde. Ne ho bisogno di loccatare. Sì. Oppure Grasciato? C'è in partita, Snake? 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 Com'è che vedevo che... No. Crasciato. Non ho parole. Ok ragazzi, a sto punto tu andai una quest. Ok. Accettiamo la tua quest. E io senza Snake perché è Crasciato. Vi saluto e ci vediamo alla prossima parte. Sempre con Snake se riesco a recuperarlo. Alla prossima! E noi dopo sei... Grazie.